Seguiamo con il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Allora, professore, buonasera ancora, è un piacere conoscerla. Buonasera, buonasera a tutti. Spero di avere molte occasioni di parlare con lei di quello che è l'argomento centrale, come in questa trasmissione abbiamo detto tante volte per il nostro presente, il nostro futuro, e che dovrebbe anche essere forse complementare con quello che è il ruolo della televisione. Ma in questo momento ci troviamo, professore, nel Ministro, nell'emergenza, in un'emergenza che lei ha affrontato prima come capo della task force della precedente Ministra Zolina e oggi come Ministro. Allora, quel che appare è che le misure adottate per tenere aperte le scuole siano state e risultate insufficienti. Secondo lei si poteva fare di più, si doveva fare di più? Ci siamo distratti quest'estate? No, è cambiata la situazione. Siamo di fronte a quella che si chiama la variante inglese, la sindrome inglese, e la sindrome inglese ha un carattere diverso dall'anno scorso. Non è la terza puntata di quel film, è una cosa nuova. Questa volta la variante inglese non risparmia i bambini, colpisce la fascia più giovani, e quindi il 13 febbraio, quando noi ci siamo insediati, abbiamo subito posto sotto attenzione la scuola e a fine mese ci siamo resi conto che nella zona rossa di allora, essenzialmente la Lombardia, stava crescendo molto questa variante, cioè anche i bambini erano attaccati. Dopo dieci giorni, una nuova verifica, verifica che facciamo continuamente, quotidianamente, l'indice ha cominciato a crescere anche in un'altra zona del paese, e quindi abbiamo preso questa misura, misura pensata, riflettuta, responsabile proprio per la tutela dei più giovani. Ancora una volta però la chiusura delle scuole impone differenze a seconda delle famiglie, non tutti possono permettersi di stare a casa con i bambini, con i figli, e in particolare sono le donne poi a subire in particolare questa discriminazione, insomma questa disparità. Sì, è vero, perché nel nostro paese sono ancora le donne che hanno la cura pressoché totale dei bambini. Questo è un fatto, perché vengono al pettine i nodi di tante storie precedenti. Noi abbiamo messo subito delle misure per alleggerire questa situazione, così come abbiamo messo subito in attenzione tutte le misure per capire come riaprire quanto prima. L'ha detto il Presidente del Consiglio, l'ha detto l'altra sera, venerdì, la prima a riaprire sarà la scuola, e questo è un impegno che ha preso il Presidente del Consiglio in nome di tutto il Governo. Però il tema è quello che dice lei. Noi siamo un paese ancora in cui la cura dei figli è affidata essenzialmente alle donne, e quindi c'è un tema, come diceva anche Landini, di ripensare tutto il mondo del lavoro. E in questo c'è dentro, c'è dentro la scuola, perché la scuola è lo strumento con cui noi ripensiamo il paese. E' per questo che nell'emergenza bisogna già pensare al dopo emergenza, bisogna pensare a quello che deve essere il nostro paese fuori da questo tunnel. Lei è abituato a questo, perché affrontò l'emergenza del terremoto, e mentre crollavano, mentre si trovava fra le macerie, si poteva decidere di nulla, oppure si poteva decidere di pensare da dove ricostruire. Questa è anche la sua idea di scuola. Ecco, lei che scuola immagina? Quando pensa alla scuola, che di fatto certo è molto cambiata, ma non così tanto rispetto, come dire, ai decenni precedenti, almeno nel modo di svolgersi, nel modo di pensarsi, nei compiti a casa, negli stessi rituali, che in parte sono ineludibili, ma in parte sembrano, come dire, invece pigramente ereditati. Ecco, lei che idea ha di scuola? Che cos'è la scuola? Prima mi faccia dire una cosa. Non ci si abitua mai a queste cose. Le si affrontano, ma non ci si abitua mai a vedere le scuole come il giorno del 20 maggio del 2012, quando eravamo lì e ci venivano giù letteralmente le scuole, e in quel giorno abbiamo deciso, non solo di riaprire, ma di fare una scuola nuova. Una scuola che... Devo trovare un aggettivo. Lo sa come è la scuola per cui stiamo lavorando? Per una scuola affettuosa. Una scuola in cui si ritorni ad avere gli affetti per gli altri. Nella scuola lei costruisce non solo la sua persona, la sua propria, ognuno la propria persona, ma costruisce anche i rapporti con gli altri. E dopo anni di individualismo bisogna tornare ad una scuola degli affetti. Una scuola in cui la socialità sia il modo di vivere assieme. Perché noi, durante le emergenze, rischiamo di perdere non soltanto le competenze. Questo è già grave. Ma di perdere soprattutto il legame con gli altri. La scuola che abbiamo di fronte, per la quale stiamo già lavorando, e per cui centinaia di migliaia di insegnanti stanno lavorando, e hanno lavorato in questi mesi difficilissimi, è una scuola che permette ai ragazzi di affrontare la complessità del mondo. Il mondo è molto più complicato di una volta. Il rischio di perdersi è alto. E questo non si fa da soli, si fa insieme. È una scuola dell'insieme. È una scuola della capacità di affrontare anche cose drammatiche, come un terremoto, o questa pandemia, insieme. Ministro, io... In questo stanno lavorando tantissimi. E a tutti questi bisogna dire grazie. So quanto lei è appassionato su questo tema, e a cui ha dedicato la vita. Ma proprio per questo, scusi la franchezza, ma l'impressione generale, che naturalmente arriva da questo anno, non da quando lei è ministro, insomma da questo anno, è che in realtà poi alla fine le scuole sono chiuse e sono aperte tutte le altre attività. Cioè, voglio dire, noi dicevamo un anno fa, vabbè, ci saranno i termoscanner, misureranno la febbre ai bambini, daranno i tablet a tutti quelli che non ce l'hanno per poter fare metà della classe in presenza e metà a casa. Cioè, cose di banale buonsenso, magari anche di superficiale buonsenso, se vuole. Ma in realtà poi nulla è stato fatto se non chiudere, che paradossalmente è la cosa più semplice. No, 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 Fabio, scusi Fabio, l'ho dato del Fabio. No, 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 non è così, eh? Non è così, è troppo facile dire questo. Nei mesi passati la scuola ha fatto di tutto per tenere aperta, perché anche nelle zone rosse i bambini fino alla prima media, li chiamo ancora prima media, sono un uomo anziano io, la prima media erano a scuola, perché anche tenere il 50% dei ragazzi in presenza e gli altri a distanza, non vuol dire essere rimasti inchiodati sulla distanza di un anno fa. Anche su questa storia della data dobbiamo fare un pensiero, eh? Perché è chiaro che la prima volta che è successa, cioè un anno fa, gli insegnanti hanno semplicemente portato il loro modo di fare scuola davanti a un computer. Sono successe tante cose da allora. I nostri insegnanti hanno imparato a usare anche questi strumenti che i nostri ragazzi magari sapevano usare meglio, ma gli hanno insegnato il giudizio, la responsabilità dell'usare questi strumenti. Non è vero che la scuola è stata ferma, non è vero che la scuola è stata chiusa. Io lo voglio dire con tutta la passione di cui dispongo. La scuola non si è mai fermata. Abbiamo tentato, e dico abbiamo perché mi identifico con la scuola, con la scuola, lo dico bene, con la scuola. I nostri insegnanti hanno tenuto aperto fin tanto che non si è presentato a questo nuovo appuntamento con un virus che nel frattempo è cambiato. La DAD è cambiata. Abbiamo fatto una raccolta di esperienze veramente straordinarie e noi mettiamo a disposizione di tutti perché la gente deve parlare, deve vedere gli altri casi. Ministro? Quindi no, no, no. Io non accetto l'idea di una scuola chiusa che è rimasta lì bloccata. La domanda era più semplice, era capire se si poteva fare in un altro modo, se si poteva tentare di fare di tutto per tenerla fisicamente più aperta in presenza. Insomma, è inutile tornare. Stiamo parlando delle superiori. Stiamo parlando dalla seconda media in su. Dalla seconda media in su. Si poteva forse fare di più. Sì, probabilmente si poteva fare di più. Però è stato fatto, io credo, nelle condizioni in cui ci trovavamo di un paese che, non dimentichi, non ha dei problemi perché c'è la pandemia. No, le problemi che sono da... Ce li aveva prima. Questi, quando parliamo della dispersione scolastica, ha ragione Saviano. Quando parliamo dei ragazzi delle periferie di molte città del sud, non è da adesso che scopriamo che c'è la dispersione. non dimentichi che questo è il paese che ha non soltanto il più alto tasso di dispersione media in Europa. Dispersione vuol dire i ragazzi che cominciano una scuola e non la finiscono. Oppure i ragazzi che vanno anche, infine, hanno un diploma ma non hanno le competenze adeguate. Ma anche il paese che ha la più grande differenza fra nord e sud. E come si recupera questo gap? Allora, vengono al pettine questi nodi. E allora noi dobbiamo sbrigarli. Da dove si comincia per recuperare questo gap fra nord e sud e anche per recuperare il gap più, diciamo, contingente, quello della frammentazione di questo anno? Si parte dai ragazzi. Si parte dai ragazzi. Si parte dai bambini e dalle bambine. Si parte di lì. Si parte dall'idea che noi abbiamo voluto mettere come primo punto del recovery plan, che si chiama, ricordo, recovery vuol dire ricostruzione. È una parola importante. Non la buttiamo via. Recovery vuol dire il piano di ricostruzione. Piano di ricostruzione nazionale. Come quello del dopoguerra. Anche nel dopoguerra si chiamava recovery plan. Si chiama anche next generation. Quindi si parte dai bambini. Il primo fatto che abbiamo messo dentro al recovery plan è un grande piano nazionale contro la povertà educativa e la dispersione scolastica. Si riparte di lì. E noi nei nostri atti, dal 13 febbraio, il primo atto che abbiamo fatto è stato proprio questo. Da una parte mettere in sicurezza le scuole, un miliardo e 250 milioni per le scuole superiori, perché i ragazzi quando sono lì devono essere sicuri. Un intervento sugli esami, perché devono avere certezza che quel passaggio lì non è un fatto ispettivo, ma è un fatto importante, perché è la valutazione di un percorso intero. e poi questo rifocalizzare il recovery plan proprio su questi temi. La povertà educativa, ridurre la dispersione, combattere il fatto che i ragazzi, soprattutto del sud, non hanno tutti i servizi come i ragazzi del nord. Ed ho solo un dato, Fabio. I bambini del nido. Nella mia terra, ma anche in tutto il nord, il prosperità che un bambino abbia un asilo è ormai il 50%. In Sicilia è il 3%. Dice è la pandemia. Certo che la pandemia ha esasperato questo, ma abbiamo tutta la storia precedente da chiamare qui sul tavolo oggi. Faccio un'ultima manciata di domande molto pratiche. La prima è se i nuovi esami di maturità si svolgeranno in presenza e quelli di terza media allo stesso modo. Le spiego come sono fatti gli esami di quest'anno. Gli esami di quest'anno sono, io credo, un punto importantissimo. Chiediamo fin da subito, da questo mese, che i ragazzi e i loro consigli di classe, cioè i professori che li hanno seguiti per cinque anni o per tre anni per i ragazzi più piccoli, concordino un tema su cui sviluppare un elaborato. Dice una tesina. No, no, non è una tesina raffazzonata. È un lavoro. Ci devono mettere un mese per scriverlo. Anzi, di più, 40 giorni. Poi lo danno al loro consiglio di classe e poi dopo 15 giorni, in presenza, andranno a discutere. Quindi in presenza? In presenza a discutere. Perché discutere un lavoro che ci hai messo un mese per farlo è un esame di maturità. Non è la maturità. Questo per le scuole medie sta dicendo? No, no, anche per le superiori. Ma le superiori, perché il classico esame di maturità come avverrà quest'anno? Gli scritti? Il classico esame di maturità parte adesso, lei che avrà da discutere con il suo consiglio di classe, con il suo professore, un tema... Io guardi, non me lo dica che è maturità. Ma lo sogno ancora di notte il mio, non me lo dica... Ma arrivo su questo punto, Fabio. Arrivo, arrivo, scusami. Mi scusi. Arrivo subito. Arrivo, arrivo. avrà un tempo di un mese per scrivere il suo lavoro oppure preparare anche una prova pratica. Se fa il liceo quello della danza, preparerà un pezzo di danza. Dopodiché, dopo 15 giorni, lei andrà di fronte al suo consiglio di classe più un presidente esterno, e lì esporrà e discuterà con loro in presenza del suo tema. Non è maturità avere quello che lei mi sta dicendo adesso, cioè aspettare che uno arriva, apra la busta, tiri fuori, occhi chiusi, il tema e lei si gioca tutta la sua vita su questo. Questa è una rivoluzione. Quest'anno qui la maturità sarà, come dice lei, insomma, sia per le medie che... La maturità sarà finalmente una prova di maturità, una cosa seria e rigorosa con cui lei dimostrerà questo periodo della sua vita come è stato capace di portare sul tavolo questo che sarà il suo lavoro. Molto interessante. Questa è la maturità. Tutti si chiedono, molti si chiedono anche se questa voce che è circolata del prolungamento dell'anno scolastico fino a fine giugno è una idea o è qualcosa di più. Io glielo dico subito. Guardi, noi abbiamo, come lei sa, a giugno abbiamo gli scrutini e gli esami. Gli scrutini non devono essere, non sono un fatto ispettivo, sono una valutazione, una giusta valutazione di quello in particolare di quest'anno che ogni ragazzo ha raggiunto e anche quello che non ha raggiunto. E allora noi abbiamo nell'ultimo, nell'ultima riunione di Consiglio e Ministro deciso di dare alla scuola 150 milioni per la significazione dei locali, 150 milioni a cui aggiungeremo altri 150 milioni sui fondi europei per permettere alla scuola di organizzare in giugno quello che chiamiamo l'orientamento. Cioè il momento di discussione per capire esattamente che cosa uno ha, cosa una persona, un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza hanno oggettivamente da recuperare. Però l'anno scolastico poi faremo l'estate insieme con i comuni arrivo Fabio insieme con i comuni e poi a settembre ci sarà l'accoglienza in cui verificheremo durante l'estate che lui è stato recuperato. Lo faremo con i comuni, con le province, lo faremo con tutte le realtà locali, quei patti educativi di comunità di cui abbiamo scritto già dall'anno scorso. Signor Ministro avrei tante cose da chiederle ma lo faremo nel corso dell'anno, spero nel corso dei prossimi mesi. Credo che insomma una sollecitazione che ci arriva spesso è insomma di porre l'attenzione sugli insegnanti di sostegno per i ragazzi fragili che sono sempre troppo poco come dire considerati e credo che sia un tema importantissimo e l'altra cosa che le volevo chiedere è come ripartirà secondo lei a settembre la scuola? Sarà come quest'anno o supereremo davvero l'emergenza al di là del vaccino? Partiamo dai ragazzi la scuola è la scuola della Costituzione l'ha detto Landini prima parlando di Costituzione l'ha detto Saviano lo diciamo oggi il 19 marzo è quella della Costituzione la Costituzione dice il diritto delle persone e il dovere inderogabile della solidarietà articolo 2 si parte dai più fragili questa è la scuola per tutti su questo certo che gli insegnanti di sostegno sono fondamentali voglio parlare di insegnanti di sostegno perché non confondiamo i sostegni e il sostegno il sostegno è la capacità di una scuola di permettere a tutti di essere presenti e di partecipare però ci vogliono anche questi interventi su questo fatto scusa dicevo insegnanti qualificati per quello spesso come sa insegnanti qualificati fanno fare sostegno e per questo bisogna intervenire anche sull'università perché l'università faccia di più ho fatto il rettore me lo faccia dire bisogna fare di più dall'altra parte di più non vuol dire negare quello che è stato fatto ma dobbiamo legare di più insieme scuola e lavoro università e scuola bisogna avere un paese più unito è il momento di ricucire ha detto bene Maurizio prima ricucire bisogna ricucire anche fra istituzioni ministro io l'aspetto allora prossimamente per continuare a parlare di scuola di come riaprirà la scuola scusa dico subito prego riaprirà così la scuola riaprirà con un anno costituente bisogna che tutto l'anno prossimo sia dedicato da parte di tutti per riportare la scuola al centro del nostro paese questo sarà l'anno prossimo guardi sta entrando il professor Burioni che ci consente di fare un'ultima considerazione sugli insegnanti dei vaccini AstraZeneca perché molti insegnanti sono stati vaccinati appunto venga professore col vaccino AstraZeneca lei si sente di dire qualcosa a questo proposito per tranquillizzarli visto buonasera professor Burioni visto quello che è accaduto ministro io credo che sia assolutamente importante che i nostri insegnanti non solo si sentano tranquilli ma che siano in grado di tranquillizzare quindi chiedo che sia portata avanti con grande forza e con grande capacità una campagna di vaccinazione che deve essere il segno con cui la scuola partecipa alla vita del paese dopodiché sia nella responsabilità di altri decidere quali vaccini però abbiamo bisogno di tornare a operare nella totale tranquillità ma abbiamo fiducia anche nella scienza e quindi anche nei nostri scienziati meno male ci mancherebbe però bisogna che anche loro abbiano fiducia nella scuola se non l'avessero avuta non sarebbero scienziati grazie Fabio grazie signor ministro abbiamo detto prima il ministro ha detto il 19 marzo e il 21 marzo io non l'ho contraddetto perché ha detto che devo fare la maturità e mi sono terrorizzato ma vabbè ah scusami è perché ho sentito ho fatto la riflessione su questo problema dei padri con cui io mi identifico molto ovviamente per questo mi sono permesso di richiamare il giorno dei padri l'aspetto grazie a lei è il giorno della primavera speriamo nella primavera speriamo davvero grazie infinite allora grazie a tutti voi a presto alla prossima